Sì... A lei non so se volessi arrivati ahol ebbene spio che non ciò che succo c'è spass scar qàstah che fai là tu? Si ho messo all'uotex mannaggia che è morto compagno pure safe bravo eh compagno non penso che si salvo ah no ce l'ho imbuzzo persa il volo